Torna l'emergenza sulla Statale 16 dopo il brutale omicidio di Bruno Luigi Battipaglia, l'uomo di 48 anni ucciso l'altra sera a San Ferdinando di Puglia, nella Bat, sulla Statale 16. Un'arteria da tempo diventata il teatro di bande di rapinatori che mettono a segno colpi a camionisti, commercianti, imprenditori, ma anche a semplici cittadini, magari alla guida di auto di grossa cilindrata. Una serie di rapine messe a segno da vere e proprie organizzazioni malavitose che, come il recente omicidio ha evidenziato, non hanno alcuna remora di intervenire con le armi ed anche ad uccidere. Stando ad alcune indiscrezioni, questi rapinatori, tutti di Cerignola, si piazzerebbero nelle ore serali e notturne sui cavalcavia della Statale 16 tra Cerignola e Margherita di Savoia, in attesa delle loro vittime. Un tratto di strada completamente nell'oscurità e dove è facile giri indisturbati, come è accaduto proprio la scorsa settimana. Auto di grossa cilindrata e dunque costose, furgone e camion, le vittime preferite di queste bande. Dopo aver scelto l'obiettivo, scendono sulla Statale e iniziano l'inseguimento fino a che la vittima non si ferma. A volte sparano per intimorire. Non è escluso che il 48enne, l'altra sera, abbia tentato di opporsi in tutti i modi, magari anche controsperonando il mezzo dei ladri. E magari uno dei rapinatori, impaurito, ha sparato un colpo di fucile contro il furgone, centrando in pieno volto Bruno Luigi Battipaglia, che è morto all'istante. Un omicidio che ha risollevato, e in maniera drammatica, ancora una volta la sicurezza su quel tratto della Statale 16.